L'anticiclone che da settimane ormai sta interessando l'Europa e anche l'Italia non sembra voler cedere il posto. Di conseguenza continuiamo a avere belle giornate, cielo sereno, poco nuvoloso, qualche velatura in quota e qualche nebbia di notte. Questa infatti sarà la caratteristica anche del weekend sulla nostra regione, quindi bel tempo, cielo sereno, poco nuvoloso, ma di notte appunto attenzione alle foschie densi e alle nebbie che nel giornate di domenica potrebbero persistere sulla bassa pianura e sulla costa anche per alcune ore della giornata. Le temperature in pianura alle minime saranno attorno allo 0 gradi, mentre le massime oscilleranno tra i 10 e i 12 gradi sia in pianura che sulla costa. Inversioni termiche in montagna con temperature direi miti in quota, 0 termico sopra i 2500 metri. Soltanto a partire dal lunedì avremo un po' più di nuvolosità, forse avremo cielo nuvoloso coperto e sopra un'ora di costa e forse anche qualche più vigine, ma non saranno vere piogge e vere precipitazioni. Bisognerà aspettare direi la lunga scadenza almeno dopo il 26 o il 27 di dicembre per forse avere qualche pioggia o qualche nevicata in montagna. È tutto, buon fine settimana!